Siete pronti? Oltrepassiamo assieme il valico in direzione del versante Lovecraft con il Theo della botteguccia artistica Crack Apart e Dagon Lorai, il diseredato. Sfateremo e confermeremo i mille aneddoti sulla vita e sulla figura ormai mitica del genio di Providence. Scopriremo come il suo mondo di assoluto materialismo stoico e ateo abbia generato il mito fondatore di un universo intero. Un mondo di creature antiche e terribili, oltre le dimensioni, dietro le quinte della mostruosità umana a noi così familiari. Creature a cui non si può credere o non credere, ma soltanto sentire, perché sono fatte della stessa materia dell'uomo. Dentro l'incubo, dietro a ogni crocicchio appena fuori dalle contrade umane, Cthulhu ci attende sognando, senza fretta. Versante Lovecraft Seguici su Ground Zero Channel